Stefania Ayer di Stefania Pilli, stilista dei capelli uomo e donna con un elegante barbershop in via Vivaldi a Bastia Umbra, ha fatto della professionalità e del colore il suo distinguersi. Il giorno della riapertura, dopo la lunga parentesi di quarantena, ha scritto sulla sua pagina social «I parrucchieri sono tornati a colorare il mondo e anche il cielo se ne ha accorto». Già, il colore, perché in 24 anni di attività Stefania ha fatto della ricerca del colore per le clienti e per se stessa un trend di moda ed eleganza. Già Maria gestisce l'angolo uomo e Stefania si occupa delle sue clienti con l'uso di prodotti di alta qualità, con la bravura unica di ottenere colori che durano lavaggio dopo lavaggio, mantenendo sempre brillantezza e la forza della tinta. Il tornare a lavorare è stato bello e anzi, sicuramente, almeno parlo nel mio caso, anche meglio di prima. Ovviamente, certo, la cosa è un po' limitata perché avendo una cliente per ogni operatore, quindi noi lavoriamo in due, quindi più di due persone per volta non si possono prendere e questo è un po' più difficoltoso, però piano piano speriamo di tornare alla normalità. Io ovviamente da 24 anni che ho un negozio, ormai sono specializzata, tanti vengono da me perché vogliono appunto i colori un pochino più particolari, tant'è che su Facebook li intitolo tutti i miei particolari. Tu hai scelto, attraverso Gian Maria, di aprire anche la sezione uomo. Sì, io ho anche una barberia e prima avevo un altro collaboratore, Gian Maria è con me da tre settimane e sì, abbiamo anche un riparto di barbershop e un angolo dedicato completamente all'uomo, la cura anche della barba e poi tutto un angolo dedicato ai colori. Che cosa fa scegliere Stefania ai clienti? 24 anni tu hai detto che hai questa attività. Beh, sicuramente Stefania viene scelta per i suoi servizi, per i suoi colori, cioè io vengo scelta per i colori che faccio. Grazie a tutti.